La Catania è il primo campionato che ho vinto, ho conosciuto la Serie A, mi sono affermato la Serie A e c'è due bellissimi risorse, perché poi da Catania sono ritornato per altri cinque anni, quindi la maggior parte della mia carriera vuol dire che ascolta per Catania e Catanzaro, è stato sempre un fattore determinante per altri dati di Catania, quindi l'apporto di pubbio che nemmeno in Serie B e qualche squadra di Serie A farà quel pubbio e Catania, quindi penso sia fondamentale, poi mi sembra che sia ritornato all'armonia tra la società, il tifo, si è, insomma c'è un bell'ambiente. Vincere i campionati non è mai facile, o sei nettamente superiore, ma non è il caso peggio nessuna squadra, è molto, è molto difficile, però, ecco, uno, Catania solamente sull'aratta, è quella delle squadre favorite, poi sta il campo di mostrare veramente questa forza, però per ora mi sembra che sarà veramente come squadra, cioè, un po' mi sembra allenatore, un po' mi sembra allenatore giusto per un certo tipo d'ambiente, poi ti ho detto, soprattutto stanno leggendo così, seguendo così, mi sembra che sia ritornata all'armonia tra la società, tifosi, squadra e il prezzo sia determinante anche per cui c'è il campionato e anche questo fatto riguardo. Sì, sì, ma questo è il battute dell'arretto, un altro campionato, l'ho detto, non è che una squadra è superiore, le vince tutte, ci stanno, l'importante poi è la reazione, reagire, capito? Cioè, ora se uno pretende la vittoria, pretende il peggioro, io vedo anche i partiti del Serie B, il Serie A, il peggioro. Parliamo sinceramente, il livello, il Serie C e il Serie B è molto, molto calato e da quello non lo ricordo lì. Vedo ora la possibilità di vedere le partite sulla Rai il lunedì quella della Serie C e vedo il gioco molto, almeno rispetto ai miei tempi mi sembra molto, molto peggiorato e quindi partire belle, quel gioco, un arco del campionato, si montano sulle città di una mano secondo me.